Grazie Presidente per la parola. Volevo fare questo intervento per ringraziare, anche se adesso l'assessore è in giunta, ma sicuramente apprezzerà questo intervento. Prima di tutto volevo fare i ringraziamenti a lui che per la prima volta questa città ha un bilancio chiaro. Noi veniamo da una stagione degli ultimi 30 anni dove nel 2008 Roma è entrata in una gestione commissariale con 12 miliardi di euro. E probabilmente se siamo entrati in una gestione commissariale con un importo così elevato probabilmente i bilanci erano stati fatti male, altrimenti noi avremmo avuto sicuramente un debito molto più basso e si è reso poi necessario suddividere bad company e good company, quindi Roma Capitale, dal Comune di Roma. Quindi questo invece è un primo bilancio dove viene messo in trasparenza e in chiarezza ciò che entra e ciò che esce. Sicuramente c'è ancora molto da fare, sicuramente ci sono tantissimi interventi e tantissime risorse che necessitano di confluire sul territorio su tante opere che magari non sono state rifinanziate. Assolutamente sì, questo è vero, ma questo non è un bilancio all'interno del quale vengono appostate delle somme, magari fantasma o comunque anche in eccesso. Vengono in modo chiaro e trasparente determinate quelle che sono le risorse che servono a questa città. Abbiamo fatto un percorso per la costruzione di questo bilancio e prima di tutto abbiamo fatto un percorso nelle commissioni e su questo io voglio ringraziare il presidente della commissione bilancio, Marco Terranova, che con questa nuova modalità di confronto tra tutti gli attori istituzionali ha permesso di far emergere fin da subito le criticità per le quali poi già nei prossimi mesi gli uffici, le commissioni potranno lavorare anche a successive variazioni o per poter migliorare questo bilancio. Questo è un elemento di collaborazione istituzionale che non è mai stato fatto prima. Da questo punto di vista vorrei ricordare un punto che è nel nostro programma, che è il bilancio partecipativo, che ad oggi ancora non è mai stato inserito all'interno dell'ordinamento di Roma Capitale in modo puntuale. Noi vogliamo disciplinarlo questo bilancio partecipativo, vogliamo consentire ai territori la possibilità di proporre progetti o presentare delle istanze che possano poi essere recepite all'interno dell'amministrazione capitolina da parte dei territori e dei municipi. Alcuni municipi lo hanno sperimentato, ci sono anche delle delibere per carità dell'Assemblea Capitolina che disciplinano questa materia ma in realtà non è mai diventato definitivo e cogente. Questo è un modo per consentire ai cittadini di far comprendere che cosa sia un bilancio di una capitale europea. E' un modo per farli riappropriare sicuramente anche del futuro di questa città e delle risorse che poi alla fine gli appartengono perché quando si finanzia o si definanzia un progetto è evidente, Presidente, che si va a incidere su quelli che sono poi gli interessi collettivi e di tutta la città di Roma. C'è un punto all'interno del bilancio che è importante sottolineare che se ci fossero degli economisti in questa sala volti alla privatizzazione dei servizi mi sparerebbero ma la spesa strutturale sul personale potrebbe aumentare nei prossimi anni. Perché? Perché Roma Capitale ha avviato un percorso per la stabilizzazione prima di tutto delle maestre e degli insegnanti e al tempo stesso anche la stabilizzazione e l'assunzione di tutta una serie di figure professionali che servono a questa città viste le carenze d'organico. Perché abbiamo fatto questo? Abbiamo deciso di presentare anche in aula una serie di atti che vanno in questa direzione perché si vuole sottrarre al mercato quelli che sono gli interessi dei cittadini, quelli che sono i servizi pubblici che possono essere gestiti in house. A questo punto noi dobbiamo assolutamente prendere più personale per poter gestire effettivamente questi servizi quindi reinternalizzando perché se non si vogliono più far gestire questi servizi da società private è evidente che serve il personale necessario. Questo però è un obiettivo che è solo temporaneo perché a lungo termine interverrà poi quello che noi abbiamo inserito nel nostro programma che è quello della digitalizzazione di tutti i processi. La digitalizzazione tant'è che il Dipartimento Innovazione Tecnologica se vediamo sul bilancio spese correnti Cuba circa 60 milioni di euro quindi ancora abbastanza importante come spesa e che serve ovviamente deve essere migliorata sicuramente anche nella sua razionalizzazione per semplificare la macchina amministrativa e quindi sostituire una parte di quelle attività che oggi vengono fatte sicuramente da una parte dei lavoratori e migliorarle anche attraverso la tecnologia. Questo è un percorso importante che noi abbiamo deciso di portare avanti con linee programmatiche anche con questo percorso. Un'altra cosa che mi preme sottolineare è nel ringraziamento sicuramente alla certezza dei conti che il nostro assessore, appunto che è l'assessore poi di tutta la città Andrea Mazzillo ha fatto con pochissimo tempo. Questo è un percorso che si avvia oggi, sono stati fissati dei punti sopra dei quali potrà essere costruito una serie di variazioni e tutti degli interventi successivi per migliorare questo bilancio. Quindi concludo Presidente il mio intervento ringraziando tutti i consiglieri anche dell'opposizione che hanno partecipato a questa attività sperando che gesti come quelli dell'altro giorno degli altri consiglieri non si verifichino più in quest'Aula che è comunque la Casa dei Cittadini e chiedendo ovviamente che la discussione possa proseguire in totale armonia. Grazie.